Io sono Rosa, io sono Marco, siamo i genitori di Vittoria, che è una bambina di tre anni e mezzo e ha l'asma di tipo 2. Mia figlia non cammina, non gattona, sta seduta da sola. Il gioco è tutto per Vittoria, il gioco è la cosa principale, come tutti i bambini. Cerchiamo di farla divertire e divertiamoci anche noi. Più o meno fa le cose che fa una bambina normale di tre anni e mezzo. Qualche attività fisica, qualche momento di gioco, qualche momento di relax. La vita è normale, dai. Lui è Alberto, è il fratello di Vittoria. Quando giochiamo non ci pensi che alla SMA giochi come se fosse una bambina normale. Le famiglie SMA siamo noi, siamo tutti noi genitori. Ci siamo buttati perché ci crediamo, perché crediamo che servano i genitori e serva Vittoria. L'unione della forza è la parola giusta. Quello che mi sono sempre detta è, per far accettare agli altri la disabilità di Vittoria, dovevamo accettarlo noi. Cercare di vivere la nostra vita esattamente come l'avremmo vissuta se Vittoria fosse stata sana. Vittoria non poteva avere mamma migliore, insomma. Molto premurosa, molto vigile, molto attenta. Se penso al valore della vita, penso ai suoi occhi e al suo sorriso. Penso proprio che vale sempre la pena di vivere. Vittoria è un fiore perché è colore, è vita e poi è gioia.